Allagamenti e disagi a Sassari per l'acquazione di ieri, caduti dopo un lungo periodo di siccità, oltre 68 mm di pioggia sul capoluogo turritano tra la mattina e il pomeriggio. A fare le spese della bomba d'acqua alcune zone della città, come in particolare il rione di Latte Dolce. Soprattutto via Kennedy e via Donizetti, come testimoniano le immagini, non sono state risparmiate dall'acqua che è riuscita a filtrare pure dentro un mezzo della tipi in transito. Anche la periferia cittadina e nello specifico Preda Niedda è stata penalizzata dal maltempo, fin dalle 6 del mattino, i barraccelli sono intervenuti per mettere in sicurezza l'aria. Il diluvio ha interessato poi il quartiere di Lipunti allagando diverse case di via Medaglia d'Oro, dove è saltata la luce, ritornata in alcuni appartamenti secondo gli abitanti soltanto questa mattina. Stesso discorso a San Giovanni al sottopasso del biva della Landriga e Bancali. Pronti soccorsi qui e negli altri contesti critici dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia municipale. La pioggia si è scatenata anche su Alguero, creando veri e propri laghi, in particolar modo nella zona del Lido. Il diluvio di ieri ha riproposto il consueto copione dei giorni di maltempo, identificando tra i colpevoli le caditoie non pulite. Una situazione che potrebbe quindi ricapitare a breve alle prossime violente piogge.